Quindi che cosa stiamo cercando di fare noi? Stiamo cercando di fare una riforma che mantenendo gli equilibri, mantenendo le garanzie, mantenendo il ruolo del Capo dello Stato consenta ai governi domani intanto di avere ragionevolmente la possibilità di durare cinque anni perché noi abbiamo pagato la nostra instabilità pesantemente. L'abbiamo pagata in tema di credibilità internazionale, l'abbiamo pagata in tema di visione e strategia perché non ereditiamo il pesantissimo debito pubblico che abbiamo per qualche ragione, L'ereditiamo perché chiaramente quando ci sono dei governi che hanno un orizzonte breve, quei governi tenderanno per esempio a privilegiare la spesa pubblica rispetto agli investimenti perché i risultati degli investimenti si vedono più tardi di quelli che offre la spesa pubblica, ma ha significato anche la debolezza della politica rispetto a una serie di altri. C'è per esempio sul tema economico la incapacità di dare risposte sulla questione degli investimenti, di fare riforme di lungo respiro, noi lo abbiamo pagato. Ora io potrei non pormi il problema perché ragionevolmente potrei essere...